Lorenzo e Debora, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costruzione, in piena libertà, consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Sì. Siete risposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e a onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Sì. Siete risposti, seguendo la vostra decisione, perché fonda la sua grazia e la sua benedizione su questi sposi che ci levano in Cristo il loro matrimonio e che li ha uniti nel patto santo e la comunione al corpo e al sangue di Cristo, li confermano nel reciproco amico. Siete risposti, seguendo la vostra decisione, perché fonda la sua grazia e la sua benedizione io, Lorenzo, accoglio a te, Debora, mia sposa. Con la grazia di Cristo prometo di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. coraggio, ci vuole coraggio per sposarsi oggi. Proviamo a vivere un amore vero. Coraggio, ci vuole coraggio per arrivare un amore. Coraggio, ci vuole coraggio. Grazie a tutti.